In un dolore strettissimo. Si era chiuso in un dolore strettissimo che non lo aveva più abbandonato. Tutti i giorni si recava nel cimitero sulla tomba della compagna e i giorni di festa non usciva di casa per non partecipare a quella che lui credeva la gioia degli altri. Rinfacciava assurdamente alla figlia Clelia di essere venuta alla luce rubando la vita alla madre come se la morte della madre fosse avvenuta a caso. Privata dell'affetto paterno la figlia era stata allevata da un'anziana zia della madre che aveva accettato evolutivamente di occuparsi della bambina tanto più che non aveva avuto figli. Con i suoi occhi di pietra verde e la sicurezza di chi vuole ribellarsi alla sua sorte di orfana, Clelia vedeva di rado il padre che invicchiava nel suo rancore, illudendosi di essere stato privato ingiustamente della sua compagna. In vano Clelia ripeteva al padre ciò di cui era intimamente convinta. Papà diceva la mamma non è morta per causa mia. La mamma è morta perché doveva abbandonare il piano fisico. Tu parli così perché ti vuoi togliere la responsabilità della sua morte. Tua madre è morta per darti la vita. No papà è impossibile che la piccola parte dell'assoluto che io rappresento e di cui a suo tempo ero inconsapevole abbia potuto provocare la morte di mamma. Io ho conosciuto l'infellicità da quando sei nata tu diceva il padre. È stata una triste avventura della quale porterò le stimmate fino alla morte. No papà, no papà! Ma il padre continuava a vivere senza comprendere una minima parte di quello che diceva la figlia. Intanto sperimentava la sua grave tristezza che ogni giorno gli dimostrava che quello che viveva era per lui necessario e anzi indispensabile. Solo una volta a Natale chiese alla figlia ma se la nostra vita è qualcosa di precostituito come dici tu, noi che potere abbiamo nella nostra vita. Abbiamo il potere di scegliere tra tutte le scelte che sono preesistenti papà, rispose Clelia.